Il matrimonio di Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro ha suscitato grande interesse sui social media, con una vasta gamma di contenuti pubblicati, sia ufficiali che informali. Numerosi video e foto sono stati condivisi dalla stessa coppia, offrendo agli spettatori uno sguardo intimo e dettagliato sul giorno delle nozze. Uno degli aspetti più apprezzati dai fan è stata la spontaneità dei momenti catturati. Nei video pubblicati, ad esempio, si può vedere la sposa mentre dà gli ultimi ritocchi e la sua acconciatura prima di presentarsi all'altare, mostrando un aspetto umano e autentico che ha conquistato molti cuori. Un altro dettaglio che ha attirato l'attenzione è stato il buche di Clizia, descritto come molto particolare e raffinato, distintivo rispetto ai tradizionali buche nuziali. Questo matrimonio è stato caratterizzato da numerose sfaccettature che lo hanno reso unico e memorabile. Una delle sorprese più grandi è stato il cambio di look di Clizia. Inizialmente la sposa si è presentata con i capelli lunghi, ma durante la cena del ricevimento ha sfoggiato un taglio corto che molti hanno trovato simile allo stile di Eleonora Giorgi, madre di Paolo. Questo gesto è stato interpretato da molti come un possibile omaggio alla suocera, aggiungendo un ulteriore strato di significato e affetto alla cerimonia. L'evento è stato un mix perfetto di tradizione e modernità, con momenti di grande emozione e dettagli studiati con cura, che hanno reso il matrimonio di Clizia e Paolo un evento da ricordare. I fan della coppia hanno apprezzato ogni istante condiviso sui social, trasformando il loro matrimonio in un vero e proprio fenomeno mediatico.